Sono molto contenta di essere qui perché è sicuramente un'occasione per poter apprendere e per poter scambiare tutto ciò che in ambito psicologico viene fatto a livello europeo. Nel mio caso specifico ho presentato un lavoro nell'ambito di un simposio che ha visto altre esperienze sia a livello campano che a livello nazionale, ma non solo, della psicologia di comunità. In particolare abbiamo portato qui un lavoro che ci ha visto partecipi di un processo di rigenerazione urbana di Porta Capuana a cui anche l'ordine ha attivamente partecipato e proponiamo e discutiamo una serie di attività, nonché nuovi strumenti che abbiamo utilizzato nella nostra esperienza per poter condividere e ricevere anche dei feedback rispetto a quanto abbiamo fatto con l'intento di portare in uno scenario come questo sempre più in evidenza quella che è la specificità e le competenze della psicologia di comunità.